Musica Durante queste giornate che riservano a tutti i partecipanti molte occasioni di scambio, di confronto anche esperenziale, per noi è anche un'occasione veramente importante quella di poter scambiare qualche parola con il direttore dell'Ufficio Cultura e Creatività insieme alla Commissione Europea Michel Magnier che ringrazio per la disponibilità di questa mattinata che ci offre prima della passeggiata lungo le vie della Valletta per approfondire alcuni temi legati ai processi di innovazione innescati dalle capitali europee della cultura. È un momento importante in questo scenario internazionale in cui la creatività e la cultura sono veramente i driver della innovazione dei territori, non è così? Sì, certo, c'è come diciamo un momentum che vuol dire che c'è un'evoluzione molto positiva e la cultura diventa veramente un ambito politico più importante del passato e allora vogliamo sfruttare questo momentum, vogliamo portare questo tema avanti perché abbiamo capito, abbiamo tutti capito che in realtà la cultura è, come diceva lei, un driver della crescita economica ma anche dell'inclusione sociale e anche un modo per l'Europa di portare il suo agenda e i suoi valori nel mondo. E quindi c'è anche il tema della diplomazia culturale. Quindi la cultura diventa una politica ambiziosa che vogliamo portare anche a livello europeo. È anche un modo per rappresentare come la cultura vada oltre le appartenenze, sia un processo inclusivo e trasversale che deve toccare inequivocabilmente tutta la popolazione che si deve sentire anche motivata, partecipa e coinvolta nei processi di cambiamento, un changing mind importante che quindi ci si aspetta dai singoli cittadini. Sì, assolutamente. All'inizio da 30 anni il programma delle capitali era come un grande festival, un modo di dimostrare il valore della propria cultura. È diventato un modo di dimostrare che abbiamo in realtà dei livelli diversi di cultura. Abbiamo la cultura locale, c'è anche la cultura regionale, c'è la cultura nazionale, c'è anche la cultura europea. E quindi è un modo di dimostrare che condividiamo tutti un'identità europea. In questo modo il capitali è veramente un programma molto utile per fare questa dimostrazione. Il vostro ufficio, la vostra direzione, seleziona dei processi che sicuramente sono basati su alcune sfide ambiziose. I progetti delle città che si candidano ad essere capitali europei della cultura devono essere basati su alcuni pillars importanti. Quali, in particolare, quelli che oggi, nello scenario attuale, sono fondamentali secondo il vostro punto di vista? Innanzitutto la partecipazione dei cittadini è molto importante perché, come diceva lei, è un processo inclusivo. Quindi la partecipazione è il criterio numero uno. Poi si deve essere una strategia chiara di sviluppo economico e sociale. Non basta mostrare la cultura, non basta fare qualche concerti, qualche mostre. Bisogna anche dimostrare che fa parte di una strategia a lungo termine per sviluppare localmente la città, la regione. E poi c'è anche la questione della legacy, non so come dire in italiano, che vuol dire che dopo l'anno ci deve essere un programma per sfruttare tutto quello che sarà realizzato durante l'anno. Quindi sono più o meno tre o quattro criteri che utilizziamo. La selezione si fa in modo indipendente, quindi io come direttore della cultura non ho niente da fare con questo processo. Ci sono esperti indipendenti e sono molto molto seri e vogliono veramente esaminare tutti questi criteri. Il monitoring è molto importante perché è un processo molto lungo, ci vogliono più o meno cinque o sei anni per preparare l'anno e poi anche due o tre anni per preparare la candidatura. Quindi ci vuole un sostegno politico e un sostegno della popolazione molto molto solido. E questo a volte è un problema per le città perché c'è un cambiamento di politico, per esempio. Bisogna essere sicuri dall'inizio alla fine che c'è questo sostegno, che veramente è un progetto portato da tutti. Quindi la governance al primo posto? La governance è importante, naturalmente lo Stato, il governo si deve anche impegnare per sostenere questo processo. La regione, quando c'è una regione, quindi è veramente un processo inclusivo. Non è solo la città che fa tutto da sola, c'è anche la popolazione, il mondo economico e poi anche i livelli più alti e naturalmente lo Stato. La Direzione Cultura della Commissione Europea monitora sicuramente anche l'efficacia dei processi dopo l'anno da Capitale Europeo della Cultura. Volendo guardare oltre, in particolare rispetto alle capitali del passato, cosa è rimasto? Quel concetto di legacy effettivamente nella vostra esperienza ha fatto cambiare il territorio, i cittadini, le imprese, tutti i soggetti coinvolti? Sì, quando è un successo grande c'è un cambiamento totale. Per esempio in Germania, a Essen, la città è stata completamente trasformata. Anche a Marsilia, in Francia, che era una città con un problema d'immagine, la percezione della città è completamente cambiata grazie all'anno europeo. C'è sempre un risultato positivo, più o meno, e facciamo una valutazione immediatamente dopo l'anno, ma adesso ci sono sempre dei impatti molto visibili in termini culturali, naturalmente, ma anche economico e sociali. Le capitali europee della cultura due all'anno in paesi che hanno dimensioni, caratteristiche diverse. Ci sono piccoli, medi, grandi e ci sono anche delle aspettative diverse. All'Italia toccherà il prossimo anno, ci sono state altre esperienze di capitali italiane che hanno concorso e poi sono divenute capitali europei della cultura. E' possibile da questo punto di vista, sicuramente, immaginare anche per Matera una sfida ambiziosa ad accogliere. Le aspettative della direzione cultura e creatività sono alte rispetto a un paese come l'Italia, che sicuramente si posiziona sul tema della cultura in un ambito di primo piano? Ma certamente, dall'Italia si aspetta sempre molto nell'ambito della cultura, perché l'Italia è una superpotenza culturale e poi c'erano 19 città che hanno partecipato a questa competizione. Quindi si aspetta di Matera un programma ambizioso, si aspetta una partecipazione cittadina molto, molto solida. Quindi sì, aspettiamo molto dall'Italia. Ma adesso a Malta, che è un piccolo paese, credo che sia il più piccolo paese dell'Unione Europea, si vede che veramente c'è un programma di alta qualità, c'è un bilancio molto alto, credo che sia 46 milioni di euro, che per Malta è molto. Quindi c'è, come dire, una concorrenza per fare sempre qualcosa di più, qualcosa di meglio tra le città. E questa concorrenza è anche un aspetto molto positivo del programma. Il meno uno di una giornata che precede l'opening per Malta e al contempo a Matera si festeggiava il meno uno, 365 giorni all'opening della città italiana, che rappresenterà quindi l'intera nazione agli occhi dell'Europa sul piano della cultura insieme a Ploodviv. Le raccomandazioni dell'ultimo anno? Noi attendiamo anche dei monitoraggi intermedi, ad ottobre poi ci sarà un incontro, un meeting con gli altri componenti e delegati della famiglia ECOC, ma sono sicuramente dei mesi impegnativi e stringenti. Quali le raccomandazioni dell'ultimo miglio? Non ho raccomandazioni da fare, onestamente. Quello che ho visto dalla mia esperienza è che l'ultimo anno è il più difficile, perché l'impressione è che tutto è più o meno pronto e alla fine ci sono tanti problemi da risolvere. Quindi credo che sia molto importante di tenere la linea iniziale, ma veramente gli ultimi mesi sono i più difficili, secondo la mia esperienza. Quindi anche il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli stakeholders sul territorio, comprese i soggetti economici, imprenditoriali e privati, è importante perché l'ibrido pubblico-privato in questa partita comunque è importante? Sì, naturalmente. Se non c'è un coinvolgimento di tutti questi stakeholders, il rischio è che l'anno capitale sia solo una dimostrazione di eventi culturali. Deve essere un po' di più, deve essere qualcos'altro, veramente. In questo ambito anche la funzione, il ruolo della comunicazione e i mezzi digitali oggi che pervadono anche le strategie della creatività e dell'innovazione sono importanti, un fattore chiave di successo di sicuro anche questo? Sì, ovviamente. Direi che secondo me il punto un po' più debole di questo programma è che non ha ancora una visibilità molto, molto grande. Per esempio si sa naturalmente nella città, nella regione, ma nel paese a volte non si sa veramente che c'è l'anno capitale. non è un evento che si conosce internazionalmente e quindi vogliamo lavorare ancora su questo tema della visibilità. Non è un evento locale. In realtà l'opening ceremony di una capitale europea della cultura è un evento europeo, ma nel mio giornale francese non c'è nessuna notizia su questo evento d'oggi, perché a Malta è troppo lontano e non interessa veramente il pubblico francese. Questo vogliamo cambiare e naturalmente i social networks e tutti i modi moderni di comunicazione possono aiutare. Piattaforme integrate e multimediale, sistemi interconnessi, paesi che dialogano, un network quindi a tutti gli effetti che anche il programma Creative Europe sostiene da molti anni e che quindi deve essere sempre più pervasivo nei processi e coinvolgere i diversi attori. Sì, sì, assolutamente, ma il programma Europa Creativa è un piccolo programma, rappresenta 0,15% del bilancio dell'Unione Europea, che è più o meno niente e vogliamo raddoppiare questo bilancio perché creiamo che veramente c'è un'opportunità di fare delle cose che hanno un impatto sulla società e sull'economia. Quindi questo programma è piccolo ma ha un potenziale molto alto e la comunicazione naturalmente dovrà essere una delle parti importanti di questo programma per far sapere a tutti che le azioni che noi sosteniamo sono delle azioni per l'identità europea. E la comunicazione serve anche a rinforzare il legame, l'appartenenza e il senso identitario dei cittadini che credono e scommettono quindi anche sull'Europa. C'è stata una tematica, una issue proprio delle ultime settimane, degli ultimi mesi riguardanti anche gli effetti della Brexit e lì ha avuto anche la possibilità di sottolineare come effettivamente una scelta così radicale potesse avere anche un impatto sulla presenza della capitale europea, della cultura nel Regno Unito. Qual è l'evoluzione di quello scenario dopo l'annuncio? Allora l'evoluzione è molto chiara, nel 19 il Reino Unito non sarà più parte dell'Unione Europea e quindi non è possibile per il Reino Unito avere una capitale europea della cultura nel 23 e questo ci dispiace molto però ci sono regole che devono essere rispettate. Quindi abbiamo informato il Reino Unito che purtroppo non sarà possibile avere questa capitale. Ci dispiace principalmente per le città che hanno già preparato la candidatura ma c'è anche un contesto politico più ampio e non è possibile essere nell'Unione Europea e allo stesso momento fuori. Quindi la situazione è chiarissima. Quindi questo significa comunque che c'è una tematica di impatto sui cittadini e sulle città coinvolte nei processi di cambiamento che avrà delle ripercussioni. Sì ovviamente, ovviamente non sappiamo cosa succederà quindi al momento è troppo presto per dire come le future relazioni culturali tra il Reino Unito e l'Unione Europea saranno sistemate. Di certo c'è invece che le relazioni e il valore del network sarà sempre solido fra gli altri paesi dell'Unione Europea. Una scommessa che si consolida è che in queste giornate di festa le stiamo vivendo nel momento celebrativo ma capiamo e respiriamo tutto il lavoro che c'è dietro significano sicuramente un'opportunità di guardare con più fiducia al futuro quindi una scommessa per i territori che vogliono mettersi in marcia con ottimismo. Sì certo, certo e vogliamo rinforzare questa rete di capitali. L'Italia ha preso un'iniziativa, il sindaco di Firenze vuole organizzare una riunione di tutte le capitali a novembre, ottobre o novembre per rinforzare questa rete e siamo pronti a partecipare. È un'idea molto positiva e siamo molto contenti. Il valore del network, il valore dell'esperienza e il valore del confronto sono alcuni aspetti chiave dei processi di cambiamento. Ringrazio Michel Manier per la disponibilità che ci ha accordata per questa piacevole e intensa chiacchierata che offre anche a noi tanti spunti di riflessione e sicuramente di lavoro in un anno impegnativo che ci attende. Grazie a tutti! Grazie a tutti!